Dopo le festività pasquali e il giovedì che aveva riconsegnato il campo basso sempre più leader del Gironef, la Serie D torna in campo per la giornata numero 25 con la capolista che al nuovo Romagnoli attende l'arrivo del Castelnuovo, la cui marcia ha subito un rallentamento nelle ultime settimane. I nero-verdi sono reduci da due sconfitti e un pareggio nelle ultime tre uscite, proprio in Molise. Cercano il riscatto con una freccia tutta nuova nello scacchiere tattico di Guido Di Fabio. Si tratta di Davide Verdesi, esterno attacco classe 2002, che nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia del Pineto con buone prestazioni, mettendo anche nel suo personale score un gol e due assist. Partita difficilissima dunque per l'undici abruzzese perché dalla parte opposta troverà una formazione, quella di Cudini, che adesso sogna di dare la strattonata decisiva al campionato prima dello stop che ci sarà tra 15 giorni per permettere di disputare i recuperi. Di Fabio però dopo le due giornate di stop per squalifica ritrova Massimo Loviso, Cudini perde per un turno al centro della difesa dal Mazzi. Chi tifferà per un risultato positivo del Castelnuovo sarà certamente il notaresco, reduce proprio dalla sconfitta del big match di giovedì scorso al Savini. I punti di distacco in classifica in questo momento rispetto al campo basso sono 5, ma il notaresco deve recuperare una gara in più rispetto ai molisani e questo almeno potenzialmente potrebbe portare le distanze a ridursi fino al meno 2. Il problema, anzi, i problemi sono due. Il primo è che il campo basso è in fiducia e galvanizzato, il secondo è l'avversario che l'undici di Epifani si troverà di fronte domani, il Castelfidardo. La squadra marchigiana infatti ne ho promossa e una delle sorprese in positivo di questo raggruppamento e lo dimostra il settimo posto in classifica, con pagina allenata dall'ex difensore Maurizio Lauro, con diversi giocatori di qualità all'interno del proprio organico. Inoltre il tecnico rosso-blu Massimo Epifani dovrà fare a meno degli infortunati Bianciardi, Colombatti e Marcelli e gli squalificati Baregas e Gallo. Presto però il notaresco per colmare l'assenza pesante di Bianciardi potrebbe virare su Alberto a quadro in mezzo al campo, giocatore di indiscusso spessore che Epifani ha avuto già a Pineto e che in questo momento gioca nel Gironei con la maglia del Messina. Dopo il recupero vittorioso di mercoledì con la rete decisiva di Minnozzi sul campo del Monte Giorgio, il Pineto chiede al suo campionato un'ulteriore accelerazione contro l'ultima della classe, l'atletico Porto Sant'Elpidio, che dopo 40 giorni di stop forzato, causa contagi nel gruppo squadra, torna finalmente a giocare. Ieri pomeriggio infatti sono stati effettuati tamponi di rito che hanno dato esito negativo per tesserati staff e dirigenti della squadra marchigiana. Affrontiamo una squadra che ha cambiato allenatore da poco, il normale non affronta un ultimo momento di classifica, però le partite che ho visionato, che ho visto ultimamente loro, ti fa capire che è una squadra che la partita se la gioca, come detto tutti da filo da torcere, quindi non è una partita facile, non è una partita facile, sicuramente, per la vittoria di mercoledì siamo molto contenti perché, come te l'ho detto in precedenza, è una vittoria che non ci aspettavamo tutti. Abbiamo raggiunto con merito, però adesso, come hai detto tu, non ci dobbiamo fermare. Sappiamo che affrontiamo una buona squadra che sta in difficoltà, però io sinceramente sono un po' preoccupato per domenica, perché domenica è una classica partita che hai tutto da perdere e nulla da guadagnare, quindi dobbiamo essere bravi noi, impattare subito la gara, con la cattiveria giusta, la concentrazione giusta, e portare subito la gara dalla parte nostra. Trasferta complicata infine per il Giuliano Varieti, i laziali a distanza di parecchie settimane ritrovano lo stadio consueto, il Maglio Scopigno, dopo aver disputato le ultime gare al Gudini. Per i giallorossi ulteriore test per assaggiare quanto questa squadra abbia cambiato, realmente marcia, davanti Barlafante e Paudice sono le armi di Leonardo Bitetto per farmare agli amaranto celesti, mai vittoriosi nel gerone di ritorno e reduci da una striscia negativa, molto lunga dopo quella stra-positiva che le aveva viste addirittura comandare il girone durante la fase 1 del torneo. Giulianova che però in trasferta deve tornare a fare il bottino pieno, l'ultima volta è stata il 3 marzo nel recupero contro l'Agnonese, successo pirotecnico per 2-3, rinviata infine la gara tra Montegiorgio e Vastese.